Salve a tutti ragazzi vi presento questa bici che oggi testerò in vendita è una Merida Big 9 3000 il telaio è un carbonio boost con vari upgrade il telaio è una misura M come riportato e ci sono alcune specifiche e vediamo com'è montata una serie sterso Rikkei VCS comandi Shimano SLX freni Shimano Forcella l'upgrade principale è una RockShox RS1 è bellissima Forcella veramente bellissima del valore di circa 1000 euro freni a disco anteriore 180 mm posteriore 160 abbiamo Fedivella FSA Gamma Pro ovviamente come cambio le pignoni abbiamo 1x11 Shimano del ragliatore XT Shimano XT faccio pignoni 1x11 11x46 gomme cst patrol tubeless da 29 ovviamente e che altro dirvi i cerchi anche sostituiti sono dei DT Swiss x1675 x1675 l'anno tutti qui nuovi veramente immacolati telaio in carbonio bicicletta leggerissima veramente ho fatto un piccolo giro prima adesso la testerò per bene una forcella spettacolare guardate quanto è attattiva ha un grigio opaco un grigio piombo opaco con questi particolari gialli arancio normali graffi sul telaio 1x2 questo qui sulla scritta sulla tesiera senza di avervi detto tutto comunque troverete nel dettaglio tutto tutta la componentistica eccola qui guardate che bella porta borraccia anche in carbonio telaio taglione come ho detto eccola qui copertone tubeless il telaio boost e la io boost ciao a tutti iscrivetevi al canale ciao ragazzi ciao 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 ciao